Amici di EnjoyPhoneBlog, benvenuti alla recensione di questa tastiera, la Nova Key, è una tastiera con un layout completamente diverso, è scaricabile gratuitamente dallo store Android, dal Play Store, ed è alla versione beta, quindi una versione non definitiva, ma avvanta già un numero abbastanza rilevante di download, siamo sull'ordine dei 5.000, e ahimè un voto medio di 2,8 su 5, diciamo una sufficienza risicata. Come vedete molti danno un giudizio piuttosto, anzi pessimo, quindi danno solo una stella che è proprio il minimo giudizio che si può dare a un'applicazione, e poi c'è la maggior parte che ne dà un numero variabile. Comunque, voto medio 2,8. Io tendenzialmente anticipo già il finale, per me 2,8 è il voto 2,7-2,8, il voto giusto per questo tipo di applicazione. Ma andiamo subito a vedere come come si può utilizzare al meglio questa nuova tastiera andando a scrivere, quindi a utilizzare subito questa nuova kit. Allora, vedete subito che il layout è completamente differente rispetto a una tastiera QWERTY. Ci sono sei aree, le vedete sono ai vertici di questo pentagono, e un'area centrale. Ognuna di queste aree contiene all'interno delle lettere, sono quattro le lettere presenti nelle aree più esterne, sono ben sei nell'area interna. Vediamo qui anche in basso due pulsanti, uno serve per inserire il punto, l'altro pulsante, questo con l'asterisco, serve per attivare la seconda schermata con i numeri e dei segni di punteggiatura. Ma andiamo subito a capire come funziona. Non ci sono i tasti per ogni lettera, ma ci sono queste aree. Il nostro dito per selezionare una lettera dovrà premere una delle aree e fare un rapido swipe nella direzione in cui compare la lettera che vogliamo digitare. Esempio rapidissimo, vogliamo digitare la parola ciao, troviamo la lettera C nell'area più in basso di questo pentagono ed è ancora più in basso rispetto all'area che abbiamo selezionato, quindi dovremo mettere il dito nell'area qui in basso e fare uno swipe verso il basso. Magicamente comparirà la lettera C. Continuiamo con la parola ciao, la I è in quest'area in alto a destra, swipeiamo e compare la I. La A, stesso discorso, è in quest'area qui a sinistra, è la più esterna, quindi swipeiamo verso l'esterno. Ok, subito un errore, così approfitto per farvi vedere come si cancella una lettera, facendo uno swipe, quindi questa tastiera vedete che è basata sugli swipe, si fa uno swipe verso sinistra, oltrepassando tutta la tastiera si andrà a cancellare. Quindi continuiamo con ciao, per dare lo spazio, movimento contrario rispetto a quello che abbiamo utilizzato per cancellare il carattere. Quindi uno swipe da sinistra verso, perfetto, cancelliamo uno swipe da sinistra verso destra. Continuiamo con una breve frase, così vedete il real utilizzo. Ciao a tutti, ok un altro errore, tutti i lettori di, la D l'ho persa, eccola qua, di enjoy phone blog. Ok c'è un altro errore però lo tengo lì per farvi vedere un'altra funzione. Vedete la G è il tasto centrale in cui non è necessario effettuare nessuno swipe. Vedete ho fatto un errore nella parola enjoy phone blog, possiamo o cancellare tutte le lettere oppure muoverci all'interno della parola o con il classico cursore, quindi tipico di Android, oppure possiamo utilizzare questa tastiera eseguendo dei movimenti circolari, verso sinistra per spostarci più indietro nel testo o verso destra per ritornare avanti. Ve lo faccio vedere, ok vedete, ci spostiamo fino alla parola ai caratteri che abbiamo digitato male, cancelliamo e andiamo a correggere enjoy phone blog, perfetto, torniamo alla fine del testo, sempre con questo movimento circolare e spero di avervi fatto capire come funziona questa tastiera. Le particolarità sono che una volta che abbiamo acquisito dimestichezza con questa tastiera che si basa sugli swipe, la scrittura potrebbe essere molto più fluida. Io ce l'ho da un giorno e mezzo, quasi due e ho notato dei miglioramenti nella velocità e nella fluidità di scrittura. Ancora non siamo e probabilmente ci vorranno molte settimane persone per arrivare ai livelli di una tastiera QWERTY classica con cui tutti siamo abituati perché la tastiera QWERTY la usiamo nel computer, nel tablet eccetera eccetera. Diciamo che necessita un periodo piuttosto lungo di apprendimento. Vi volevo far vedere anche altre due cose, tasto maiuscolo si attiva swipando verso l'alto, con due swipe si blocca il tasto maiuscolo per tornare ai tasti minuscoli, di nuovo uno swipe dal basso verso l'alto. Dal punto di vista contrario quindi facendo uno swipe dall'alto verso il basso si andrà a capo. Possiamo evidenziare la parola tornando indietro, per esempio vogliamo evidenziare la parola lettori, ci spostiamo nella maniera in cui abbiamo appena visto prima, passiamo per il centro e continuiamo il movimento circolatorio. Abbiamo selezionato la parola lettori, possiamo cancellarla o aggiungere un'altra. Non c'è per ora un dizionario incluso in questa tastiera, gli sviluppatori confermano la futura presenza di un dizionario per la versione non beta, per la versione definitiva. Effettivamente si sente la mancanza perché un dizionario permetterebbe di correggere all'istante le parole, quindi andando a colmare gli errori che nella fase soprattutto di apprendimento ci sono e sono piuttosto frequenti. Altra cosa che mi sento in dovere di segnalare è la mancanza di personalizzazione, soprattutto lo zoom manca. Sarebbe utile avere uno zoom per ingrandire o diminuire l'area in generale che occupa la tastiera. Su uno schermo grande come questo, di questo zoppo che è di 5,5 pollici, questo tipo di tastiera è impossibile da utilizzare con una mano sola. Questa tastiera è pensata per una sola mano, infatti bisogna fare diversi swipe. Con una mano gli swipe sarebbero molto più utili. È impossibile utilizzare questa tastiera swipando con monitor grandi appunto per l'impossibilità di impostare lo zoom. Tra l'altro è impossibile anche scegliere dei colori diversi rispetto a questo grigio su bianco, che è piuttosto triste. Vi faccio vedere la stessa identica tastiera. Su un altro dispositivo più piccolo, in questo caso prendiamo un Nexus 4, che ha una dimensione dello schermo di 4,7 pollici, e sul quale ho installato la nuova key. Vedete, la dimensione dello schermo rispetto ai 5,5 pollici è nettamente inferiore e con questo tipo di grandezza è possibile utilizzare solo un pulsante. Per esempio, io voglio digitare... chiedo scusa... voglio digitare ciao, quindi più o meno lo stesso testo. Vedete che è molto più fluido, nonostante neanche stia usando anche la mano sinistra, quindi io essendo destro, però i movimenti, soprattutto questi che occupano tutto lo schermo e quindi il nostro dito dovrà muoversi su tutta l'ampiezza dello schermo, sono più facilitati da uno schermo di dimensioni ridotte. Detto questo, cosa dire in conclusione di questa tastiera? Necessita di un tipo di adattamento molto lungo, per ora 2,8, 2,7 salito da qualche ora, è il voto che anch'io mi sento di dare a questa applicazione, mancano diverse cose, manca la possibilità di personalizzarla, manca la possibilità di inserire uno o più dizionari e di appunto impostare la grandezza, lo zoom, lo spazio di tutti i tasti che sono presenti. Quindi confermo anch'io un voto che rasenta di poco per ora, per questa versione beta, la sufficienza. Vi ringrazio per la visione e per Enjoy From Blog, Alessandro Miotto.